Quam bonum haic vinum est. L'hai già bevuto? No, si chiama quam bonum, che quam bonum vuol dire quanto buono, ma c'è un motivo perché è scritto in latino, perché è fatto dalle monache benedettine di Santa Scolastica alle porte di Roma. Beh, complimenti intanto alle monache. Complimenti alle monache, qui c'è lo zampino di Fabrizio Fimiani, è un enologo che conosciamo molto bene perché abbiamo conosciuto varie cantine con cui lui collabora ed è una bella storia perché in questo monastero le monache benedettine tengono un orto, tengono gli olivi e tengono il vigneto e questo serve per i loro usi ma anche per dare da mangiare, da bere alle persone che sostano al monastero e hanno cominciato a vendere anche il vino un po' per autofinanziarsi. La storia è molto carina perché comunque tutto è iniziato negli anni 40 per merito dell'abate Schuster, che poi è diventato arcivescovo di Milano che ha iniziato questo percorso. Sì, poi nel 2013 hanno diciamo iniziato a condividere questa esperienza con la comunità monastica di Bose e hanno ricominciato a dar vita a questo progetto e devo dire che gli sta riuscendo bene. Gli sta riuscendo bene, io ho parlato con Suor Germana che è ovviamente molto dolce, molto simpatica e capisci che proprio l'intento loro non sia quello di fare business, è ovvio l'intento loro, è quello di fare un lavoro fatto bene. Infatti stanno passando anche al biologico perché hanno proprio l'idea che tutto deve essere equilibrato tra natura, spirito eccetera eccetera. Devo dirti Dario che mi ispirerebbe proprio andare a vedere perché mi immagino questo atto di festività, questa cosa molto gioiosa, questo coltivare la vita in modo allegro, mi ispira veramente, me lo immagino così. Diciamo che ogni volta che noi valutiamo un vino e valutiamo una cantina, la curiosità di andarle a trovare sul territorio è enorme, in questo caso ancora un po' di più perché insomma la storia è sicuramente bella. Fanno tutto il processo a mano loro, la cura della vigna, appunto l'enologo le segue e le sostiene, dopo ovviamente la vinificazione viene fatta in una cantina di neppi perché la vinificazione è un po' più delicata. Certo. Beh, passiamo alla degustazione. Passiamo alla degustazione. Vediamo il risultato effettivo di questo. È che dopo io quando lo bevo comincio a parlare in latino. Eh sì. È una cosa di famiglia, noi parliamo in latino a caso. Allora io posso iniziare a parlare in dialetto? No, meglio di no. Allora, alla vista è di un bel giallo paglierino, al naso ha una bella complessità anche se ha note tutte molto delicate, non ha questa invasione però ha lo stesso complessità. Questo non succede spesso nei vini che non hanno intensità olfattiva perché vengono fuori uno o due profumi e sono poco complessi. Eccessivi. Qua hai una bella nota, le note agrumate, le note vegetali. Però delicato. Sì, molto elegante, molto elegante. Non so se sia una cosa ricercata o meno, però è risultato piacevole. Tra l'altro i vitigni utilizzati sono la malvasia, il trebbiano, ma so che hanno diversi biotipi anche di garganega e di bombino bianco. Quindi c'è anche una buona sperimentazione questo vino. Un altro risultato che mi sento di dover accennare è che nonostante faccia 13 gradi. Che è variabile, ogni anno è un po' diverso. Sì, dai 13 ai 14. Questo è un 13. Un vino anche importante, un vino di struttura, un vino che probabilmente ha una capacità di invecchiare notevole. Nonostante questo è un vino delicato anche al palato, per niente pesante, per niente aggressivo e neanche impegnativo dal punto di vista di alcolicità. Guarda, io lo definisco un buon vino onesto di quelli che sono piacevoli da bere e ti direi che questa volta l'accostamento lo faccio io. Dai, via. Tagliatelle al ragù bianco. Ovviamente me l'hanno suggerito loro e quindi sai che io negli accostamenti faccio molta fatica. Di solito ti chiamo. Quindi io ringrazio Suor Germana, ringrazio Fabrizio Fimiani sempre per il suo supporto, perché dopo lui ci suggerisce varie cose. E quindi che dire? Quam bonum haic, vinum est.